La squadra mobile di Catania ha sgominato una banda di giovanissimi responsabili di rapine commesse ai danni di distributori di carburante e altre attività commerciali. È stata fatta luce su cinque rapine a mano armata commesse tra il 24 e il 26 settembre, sempre in orario notturno, ai danni di tre distributori di carburante, di cui due ubicati lungo la tangenziale e uno lungo la circombollazione e una rivendita di tabacchi del quartiere d'inesima superiore. Inoltre la stessa banda aveva rapinato un'autovettura utilizzata per mettere a segno alcuni colpi. I rapinatori agivano sempre travisati da cappucci armati di pistole e in un'occasione di una mitraglietta e facevano irruzione nei distributori di carburanti con annessi bartabacchi, asportando denaro, sigarette e altri valori. A conclusione delle indagini sono stati posti in stato di fermo due componenti, mentre altri due della banda, segnatamente un maggiorenne e un altro minore, sono indagati, rispettivamente il primo in stato di irreperibilità, mentre il secondo presentatosi presso gli uffici della squadra mobile in stato di libertà.